Mister Emiliano Mondonico è una persona che tutta Italia, ma tutta Firenze, un grande allenatore, ma soprattutto un grande uomo, che l'Italia e Firenze portano nel cuore. Lo portano nel cuore da professionista e lo portano nel cuore soprattutto per ciò che a livello umano è riuscito a dare a tante persone. L'ha dato ai suoi atleti, ma ha dato anche a tante persone che avevano bisogno di lui, tante persone che avevano problemi con le dipendenze, dipendenze da alcol, dipendenze da droga. È un professionista che non si è mai, un uomo che non si è mai tirato indietro. Clara, alla sua figlia, alla morte l'anno scorso anno di Mister Mondonico, ha deciso di portare avanti il suo credo, i suoi progetti e lo tiene ancora oggi in vita, e lo tiene in vita attraverso la fondazione, a lui intitolata la Fondazione Milano Mondonico e quindi chiedo a Clara Mondonico di raggiungerci per l'assegnazione del primo premio speciale ed anche a Fabio Milano che è il segretario della Fondazione. Mentre ci raggiungono chiedo alla regia di passare però un video. Chiedo di passare alla regia un video, un'intervista di Fabio Milano, segretario della Fondazione e però anche giornalista di Toritotor.it che ha fatto a Mister Mondonico. Emiliano Mondonico quest'oggi allenatore di una squadra particolare, Oratorio Sant'Alberto di Lodi, una squadra di ragazzini. Ci sei bene, dai, ci sono divertiti, poi alla fine c'è chi piange, c'è chi ha fatto gol, c'è chi non l'ha fatto, c'è chi se la prende i genitori, ma penso che è importante che i genitori siano presenti sul campo a seguire da vicino un po' le tensioni che hanno i loro bambini. Questo li aiuterà sicuramente nel fargli crescere, nel fargli continuare a giocare al calcio. Penso che la cosa più bella sia vedere questi genitori che nonostante lavorino tutta la settimana vengono a sabato mattina con i loro figli e si divertono forse più dei loro figli. Quanto è importante a quest'età il ruolo educativo dell'allenatore e dell'educatore, nel senso che la parte calcistica, la parte tattica conta praticamente zero, è un gioco, però come si comincia ad impostare un giovane futuro calciatore? L'educazione dipende dalla famiglia, ecco perché è importante che ci siano i padri, perché è la famiglia che dà al figlio la giusta educazione, noi possiamo solo allenarli. Ed egli ci sono educati o maleducati, loro li devono educare, ecco perché il compito più ingrato, ma penso più favoloso sia il loro e il fatto che lo stiano prendendo in maniera giusta vuol dire che tutti quanti hanno proprio la voglia che i loro figli vengano su bene. Che differenza c'è tra allenare una squadra vera, non che questo non lo sia, però una squadra vera, una squadra professionistica e un impegno comunque settimanale come quello qui al Sant'Alberto di Lodi? Questo è più difficile, perché nel fare le esercitazioni non sai mai fin dove puoi arrivare e perciò devi cercare di ragionare con la loro voglia di divertirsi. Quando alleni una squadra professionistica è chiaro che i lavori sono quelli che tutti i quali conoscono. È molto più facile allenare una squadra professionistica che una squadra di ragazzini. Credo che questo applauso sia la cosa più bella e soprattutto doverosa che la Toscana e Firenze vi tributa in qualche maniera a lei, al babbo e a chi soprattutto crede in questa attività della fondazione che avete iniziato e che sicuramente avrà grandi risultati. Grazie, prima di tutto grazie a tutti perché da un anno dalla partenza non riesco a dire l'altra parola. Pensare che papà venga ricordato, venga premiato per me è fondamentale perché vuol dire che si ricorda come uomo e non come allenatore. Io credo di aver avuto la fortuna più grande del mondo, ad averlo avuto come papà e spero che una minima parte di quello che lui mi ha insegnato, che era veramente tanto, io riesca a metterla in pratica e a far capire ai ragazzi, soprattutto ai giovani d'oggi perché noi ormai siamo grandi, magari non è che abbiamo ancora tanto da imparare o perlomeno qualcuno che ce lo insegni. Credo che noi abbiamo l'obbligo morale ma soprattutto di pensare che i ragazzi di oggi sono il nostro futuro e loro devono capire che prima di diventare campioni sul campo bisogna essere campioni nella vita e bisogna essere uomini o donne che seguono i valori quelli veri, che sono non tanto e non assolutamente l'apparire ma l'essere. Questa è la cosa più importante che noi dobbiamo pensare e insegnare ai nostri ragazzi. Grazie Clara Mondonico, io chiamerei in causa anche l'assessore allo sport della regione toscana Stefania Saccardi perché i valori della Fondazione Mondonica e i valori del Milano Mondonico si sposano con quelli della regione toscana che promuoviamo ogni giorno. Prego. Non c'è dubbio poi una tifosa viola come me non può che provare emozione per le foto del mondo a cui siamo stati tutti molto affezionati sia per il lavoro che ha fatto come allenatore ma anche come diceva giustamente sua figlia per la persona che era e per il segno che ha lasciato credo nel mondo del calcio in generale. Quindi il premio speciale sono molto contenta che quest'anno vada ad una fondazione che non solo è intitolata a Mondonico ma che si occupa di attività di carattere sociale che è uno degli aspetti importanti dello sport. Lo sport è importante per i risultati ma è importante, lo dicevamo prima, anche e soprattutto per i valori che riesce a diffondere e a trasmettere a tanti giovani che fanno sport e che saranno non solo dei buoni sportivi e se non saranno dei grandi sportivi noi ci auguriamo che siano delle persone che possono stare in una comunità a pieno titolo con valori importanti. Quindi grazie davvero di cuore. Io chiamerei in causa anche Fabio Milano. Fabio Milano è editore di Toro.it, è giornalista ma soprattutto è stato un grande amico di Milano Mondonico. Tu hai avuto modo di conoscerlo prima per lavoro, per mestiere, da giornalista e poi ha conosciuto anche, quindi ha conosciuto il Mondonico professionista, ha conosciuto anche il Mondonico uomo. Ce lo racconti? Buonasera a tutti e grazie. Io un anno fa, per il maledetto 29 di marzo, ho perso un amico che poi combinazione era anche allenatore del mio Toro, della vostra Fiorentina, dell'Atalanta, insomma di tante squadre ma era innanzitutto una persona per bene. Era un uomo, leale, sincero, un amico vero. Era un grandissimo allenatore ma era ancora più grande come uomo, come persona. Persona vera, fuori dagli schemi, sempre sincero, sempre schietto, fino all'ultimo sempre attento ai bisogni degli altri, forse anche paradossalmente più che ai propri, fino all'ultimo si è dato, veramente si è speso verso gli ultimi, verso chi era più indietro, proprio fino a poche ore prima che capitasse quello che è capitato. Noi abbiamo fondato con Clara questa, naturalmente su iniziativa, innanzitutto questa fondazione per, come dice sempre lei, per non farlo andare via e oggi Simona mi ha mandato un messaggio molto bello venendo qua su WhatsApp, mi ha scritto, speriamo che Emiliano ci veda. Bene, io lui lo chiamavo amico, ci chiamavamo amico. Vedi amico, insomma, sono sicuro che tu ci stia vedendo e forse con quei baffi sornioni forse stai sorridendo. Grazie Simona, grazie di cuore a tutti. Grazie. Grazie a voi. Un'ultima cosa a Clara, perché come dicevi Clara, il mister, un anno dalla sua partenza, lo scorso 29 marzo, io vorrei ricordare anche cosa ha lasciato, perché c'è stato un tributo enorme, un tributo enorme sui social, insomma, tante persone lo hanno ricordato, tante persone normali, tu hai detto che il suo valore più importante è stato proprio questo, la normalità. Sì, quel giorno lì, insomma, non lo nomino, sono rimasta piacevolmente sorpresa che le persone che istituzionalmente lo ricordano e sicuramente lo ricordano anche loro con affetto, però mi ha fatto un sacco piacere che i suoi tifosi, e che oggi il suo popolo, il suo mondo, lo ricordasse, perché credo che è questo quello che è rimasto e spero che rimana per sempre. Lui era uno normale, uno di voi e uno di noi, poi lasciamo perdere. L'uomo pubblico, per ovvie ragioni per il lavoro che faceva, doveva esserlo, ma anche in quel essere uomo pubblico è rimasto lui e da sempre e per sempre. Grazie. Grazie. Allora procediamo all'assegnazione del premio, del premio speciale, lo sport per il sociale alla Fondazione Mondonico. Stefania Rascardi lo consegna.